Pace del Signore, siamo missionari a Bezzi Chauca e pastore Marcos Suanis. Siamo qui per invitarvi a seguire questa pagina di YouTube, Assemblea di Dio Adonai. Pace del Signore carissimi, quel pastore Marcos, io vi invito a voi a iscrivervi nella nostra pagina su YouTube della Chiesa Adonai per vedere le parole di Dio, orare di culti, ascoltare un po' la parola del Signore. E iscrivete Chiesa Cristiana Evangelica Adonai su YouTube. Grazie mille, Dio vi benediga.